Questa confraternita nasce in provincia di Vicenza e lo scopo di questa confraternita è proprio la promozione dei prodotti, soprattutto quelli d'Eco e ogni ristorante che decide di aderire a questa confraternita deve firmare un disciplinare con degli impegnati imprecisi ad avere ad esempio 3 prodotti d'Eco nella propria carta, 6 tipi di vino vicentino e promuovere il territorio in tutte le sue forme, anche organizzando serate di promozione magari in accordo con i produttori di prodotti locali. Attualmente la confraternita conta oltre ai 10 ristoranti fondatori, una quindicina di ristoranti aderenti, altrettante richieste che stiamo valutando in questo momento, pensiamo di arrivare a fine anno a 50-60 ristoranti aderenti, speriamo arrivare a 300 che è il nostro obiettivo finale entro il prossimo anno. Per il logo della confraternita abbiamo pensato ad un gatto che è un simbolo della città di Vicenza con un cappello da cuoco e la bandierina italiana che identifica il nostro territorio.